con le valigie di cartone legate da uno spago eravamo noi quelli che erano considerati pericolosi eravamo noi che arrivavamo ad Ellis Island io racconto sempre che se guardate i nomi di Ellis Island ci sono i nomi di tantissimi italiani perché al museo di Ellis Island tengono tutto l'elenco di tutti quelli che sono arrivati in America ci saranno Ferrari, ci saranno Cristiani ci sono Salvini, 247 Salvini nell'elenco del museo di Ellis Island il problema è il 248esimo che è rimasto qui e ci ha lo regalo ma il punto fondamentale è che noi siamo un popolo di migranti noi siamo un popolo di migranti dobbiamo ricordare vi racconto questo, l'altro giorno ero a Pescara